musica 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 bene ragazzi bentornati qui con un nuovo episodio di vision one e possiamo vedere che in realtà non potete vedere però possiamo dirvelo se avete visto l'ultimo episodio porca troia porca troia porca troia ma che cazzo io ho cominciato solo con Cotin e poi ho statito piano piano benvenuti in sesta divisione questo fa come cazzo io pare se vabbè c'è pure culo ma è finita è finita è finita qua c'è Leonardo Messi e Neymar e c'è Giulia anche il culo cioè mandi valisi a visibili aine wonders bello guaro il guaro il guaro mamma mia anni a partire per la la barra uno dei pateletoli di buono almeno almeno bello guaro il guaro oh come cazzo io pare se ricordiamo che non vuoi non è forte ma un po' non cazzo è quello problema spero o insomma che tu guardi Gervin insomma Neymar se vabbè vettimene squadre dai voglio vedere la cosa fa in me da qualche parte cioè vai solo vai leva da ca e vai va bene vai 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 si vai 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 Gervinio Gervinio ci sei cascato pensavi d'entrassi in scivolata però c'è porco due si è fatto tutto il campo vabbè ma vaffanculo vattini oddio non è in colà bella bella non è in colà non è in colà guardate che c'ha pure il bucio di culo mo magari qui c'era un'alto si è partito e segnalo dato che ha passato un'alto ma stava a se stesso vai ma stava a fare per favore era tutto un altro vai Gervinio 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 ma perché l'ha data fuori dai che è passato rigore rigore vero no punizione vai oh non lo faccio apposta che ci avevo che tirare piance no non ci abbiamo piani perché piani ci sta fuori dai guarino ma che ti ti merda fai meno che non mi fa ragazzata no 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 dai messi le teste a power bug c'è regale supportareci sì no infatti c'è in primo tempo 4 a 1 solo vabbè vabbè che cazzo di tiro di merda oh niente guarino non c'è sta proprio in mezzo è buona è buona è buona è buona vabbè 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 ma dalla girata mamia vabbè facciamolo vabbè hai capito vacca vabbè 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 eva vabbè vabbè è vabbè perché vabbè vuoi Chad vai eh vabbè ma tu cazzo è andato Diego Lopez guarda i quadri andiamo perso al tempo Gervinio Gervinio non metti come ho andato Nicolana hai segnato dei infatti perchè mi hai deviata ahahah che cosa hai fatto? ma perchè mi hai gol? perchè? non male che ci ha attirato ahahah vaffanculo cioè non messi le testa ma la può prende su un ponna no vabbè mi pensi ha fatto due gol di testa eh abbiamo uno che stava solo in mezzo all'aria posso capire ma questo qua no questo no pezzo di merda che 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 ma no ok no a fallo niente era quasi impossibile sì noi ci abbiamo provato in tutti i modi ma questi prende per una squadra illegale è iniziata bene una divisione a quanto pare speriamo di trovare tutte le squadre così la sesta divisione speriamo di trovare tutte le squadre così noi ci vediamo al prossimo episodio e lasciate un mi piace bello bello